si chi ne trova una buona vabbè ah oddio alla buon'ora andate parcheggiare a Montelibretio hello non vi mangiate i tramezzini che vi fanno ingrassare principe l'aperitivo è pronto prego grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti la cinta può trovare come una settimana non vedi che c'è star bibita ecco ripia non inizio a fare una cortesia a questa cosa ripia proprio tutto si senti se ci riesco sono che partiamo vado sui curgoni e baspetto ci riesci per la morte sto sempre a impennare ci riesco ci riesco grazie a tutti grazie a tutti Grazie.